Lo scorso ottobre l'Unione Europea ha dato il via libera alla direttiva sul salario minimo. La legge dà agli stati due opzioni, o introdurre un salario minimo o raggiungere almeno l'80% di stipendi fissati da contratti collettivi. L'Italia non soddisfa la prima opzione, al pari di Austria, Svezia, Finlandia e Danimarca. Se volesse adeguarsi, la direttiva consiglia una serie di parametri da seguire, uno dei quali è portare un salario minimo intorno ai 1000 euro. In molti in Italia pensano che l'introduzione del salario minimo potrebbe contribuire a risolvere una parte dei problemi che molti lavoratori si trovano ad affrontare. A non pensarla così però è proprio il governo. Secondo Giorgia Meloni il salario minimo potrebbe diventare un parametro sostitutivo delle tutele garantite ai lavoratori, andando in alcuni casi a peggiorare la situazione. Il governo chiude alla possibilità di introdurre in Italia un salario minimo legale e sottolinea che è necessario estendere la contrattazione collettiva e tagliare le tasse sul lavoro. Questa la linea che intende seguire il governo per fronteggiare il fenomeno della precarietà e del lavoro povero. In ogni caso il dibattito sulla scena politica resta acceso, con posizioni a favore dell'introduzione di un minimo salariale legale e altre fortemente contrarie.